ed è inutile che faccio la mia terza intro incredibile perché se siete arrivati al finale di godomenia sapete che adesso tocca l'incontro del vostro schedo incredibile sus e quindi è il momento di andare da sus e di andare alla battaglia sus stavo pensando niente sus sta pensando camera ma sei pronto no neanche il camera è pronto va bene nessuno è pronto su se sei pronto a dire che lo proteggerà sus se sarà in difficoltà state tranquilli insomma stai però vorrei combattere no su se tu devi rimanere protetto e il vostro schedo proteggerà sus si sommetta però che mi sento così inutile mi sento magnaggio di miseria e sus e trasformati insomma stai non mi posso trasformare comunque alessandro stiamo arrivando un itaio incredibile e ci vediamo nella santa arena e adesso siamo arrivati almeno di questo incredibile con domenica ovviamente i primi da entrare sono i campioni ufficiali sus e sus ed eccoci quella l'arena incredibile posto al goto c'è più scherzo e sus e sus camera dov'è sus credo sia scappato sus dove sei rimango qui rimango qui e sus sali su devi presentarti al pubblico incredibile e sus rimango qui al medio sus è veloce e adesso coloro che affronteranno non sus e scheletro cioè tacito inutile camera potrà essere lì a presegnare le bellissime carriere adesso mi vedi i campioni miei alfa e omega e il vostro alessandro il brutale inutile che fischiate quaglioni state per vedere un massacro incredibile alfa e omega attivazione manca pianta mi sta aspettando eccolo leggiamo in posizione le cinture sono messe in palio laggiù quest'altro è seduto qui ovviamente essendo un bacino di coppia prima di entrare l'altro deve esserci un tang vero camera ma in arbitro esatto allora chi entra di voi due e ovviamente il vostro scheletro entrerà per primo preparati perché adesso ti distruggerò maletto alfa o omega o come gli diana sus dove sei? sono qui sopra nel pubblico e quando vuoi mi fai il tango come sta? non ci sarà bisogno di far entrare il suo sito di vostro scheletro partirà fra ring the bell adesso il vostro scheletro stavolta il vostro scheletro ha preso questo scheletro ha preso vuoi schivare questo attacco brutto fake scheletro come gli diana attenzione al braccio incredibile alfa per poveri non farci umiliare in questo modo mamma di salire su ring non lo farai questo scheletro powerslap oh damn buzio uno e l'ultima che trovi il vostro scheletro ha preso il scheletro è incredibile è incollorco ma tua gamba è inutile attenzione potrebbe potrebbe tappare non fate da chiare alcuni scheletro ci sono già liberi o chi cazzo ma forza sono estremamente libera cosa da fare cosa da fare è stato mi saluto a posto e su su esagerato ho fatto con la testata troppo attenzione forza camera mi conta uno due mi sono ferito primo su qui sopra nel colpo di questo strozzo mi saluto mi saluto mi saluto sei tranquillo Che farai? Che farai? Cosa è il nostro schermo? Eeeh! Stai cominciando a prendere! Guarda! 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 Cosa fai? Guarda! 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 Su questa sta bene! Su questa! Mi faccio entrare! Eeeh! Guarda! Guarda! Fai stare per favore! Torna sopra! Non minaccia la miseria! Eeeh! Alfa di stretto! Forza! So se mi stanno tardi... Ahm! Su questa! Non ce la faccio! Ahm! So mai tanto da vez... Si sta solevando una mano in mente... E adesso gotalo sciuotto! Ahm! Vai Cameron Compa! Che palle! um! two! è mostruoso è incredibile bravo Alfa hai fatto un buon lavoro adesso dai il tag a Omega e ci divertiremo guarda come sono i ducati che si siedono perfettamente Pianta come ci sento a vedere il proprio amico il suo mondo che sta per essere annettato su me stella prego mi dia il tag su se non posso darti il tag su se ti rischi di farti veramente del male su me stella non posso vederla che so mi usci in questo modo su dirò che io ma su se no su se i mani lì prego su scherzo su me stella per favore mi si faccia dare un po' di godo da me per favore su me stella un po' di si faccia dare un po' di energia almeno su me stella mi tocchi la grande testa si sente meglio su me stella su se recupero un po' di godo adesso ci vediamo io e te Omega io l'ho preoccupato su su eh grazie a cazzo cameraman la situazione è terribile io non posso fare niente su se devi credere in te cazzo te lo devo dire io che sono il cameraman mannaggia la miseria ma adesso me sta vada questa volta cambieremo approccio io puntavo proprio che ti distraessi non credo proprio il vostro skater mica pecca di intelligenza adesso ti farò del male alle mani maledetto che cazzo ti ha bloccato una sottomissione incredibile Omega liberati sottomettiti creatura orribile grande su me sta cosa succede? grande Omega di taruggi quell'osso ma su me sta sempre ahio sus sto facendo subito un danno cosa sta facendo? vai Omega cosa sta facendo? sus questo fa veramente male grande Omega schiaccialo sottometti questo inutile osso schiaccialo tra le tue vertebre ma basta mi prendono il tag da solo il vostro giusto non può subire tutto questo ma sta mi dia il tag no sus non lo farò nemmeno me lo prendo da solo eh al passare che mi pare il cazzo cazzo su signor è sottomettione grande davvero davvero potente maledetto se lo colpisci verrai disqualificato quella stupida pianta ha fatto il tag volendo non volendo colpisci adesso eh che verrai disqualificato vero tutto il cazzo il cazzo ma c'è tu sus cosa hai fatto? su questo non posso vedere a subire tutti questi colpi adesso il vostro sesso segnerà a sorridere preferisco subire io i colpi ma nonostante mi stia facendo sotto tu sdrogami il tag no sus non so devo andare su su questo ti prego il vostro sesso è pronto infatti sotto brutto coso e venga la mia cazzo l'ho visto l'ho visto infatti sotto guarda quanto è più grande l'ho visto ma la distruggi è inutile che cazzo ti guardi il vostro sesso si va a rispettare il sesso è inutile lento forza fatti sotto inutile cose prende il sesso stai schivando devi anche colpirlo sono stati a calmo me lo sto facendo sotto chi sta rabbiando questo vostro sesso fatti sotto sono stati facendo mi sono fuggato di nuovo io camera mi consettate non è valido su si chi ha tagliato sono stati la prego mi stavano metta di questo scusami scusa scusa i piccoli l'olto uno becca di questa cosa vuoi schifoso grande perfetto camera questo questo è in realtà questo vuole un lato l'arbitro l'arbitro camera ma è tutto cosa vuole questo cosa ecco di qua il sceloso cazzo ci siamo perfetto alza distruggi lo spedro con la meta questo questo è stato il sesso scusami per il rumore non c'è niente lascia il pacistus oh no ce li ho tutti e due addosso a questi maledetti distruggetelo distruggetelo è inutile che il pubblico fischia che ho detto no lancia stare sus devi stare maledetto devo andare da sus no ecco voglio sparirci è bravo distruggetelo è doppia volta distruggilo adesso questa inutile pianta continua a scappare che cosa sta restando inutile inseguirà sei mio finalmente pianta ti sono trattati i tuoi occhi ripartati la fiera e il tuo schedro eheh vuoi ci stare sus maledetto grandi albomene rosciugate fino all'ultimo nel mio di codo non si sbaglia sempre è pronto a contare voi voi il vostro sus è spaventato ho capito che siamo nella camera dello spirito della sboma quindi lei che dice capace di fare io usare potenziale necessario credere in te in te in te il nostro sus è stato come le paure come i dati maestro di storia il mio maestà maledetti la seconda trasformazione sus cosa succede se il risultante non ci ha vado eheh provo a venire da lì con il dolore la pianta alfa vai a controllare cosa eheh non c'è più la pianta dove è finita perché omega bordo in alto eheh cosa uno due cosa seconda forma sius drillo lasciate stare giù il tag in questa potere è forza vita lasciatare giù il tag sius è incredibile finalmente hai le mani è vero il vostro sius ha le mani venga su amistà salvo io venga venga su amistà e adesso che sono amistà al sicuro il potere del vostro siustrillo amistà 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 mi stanno accendolo prendi qui dai lo sius brutta strapperò gli arti a moccichi per quello che avete fatto il suo maestà maledetti trasformazione consuma molta piena ingegno questo si deve concludere invece la svelta di questo maledetto bruco preferivo la piazza e la tua paura ti mangerò vivo questo è per quello che avete fatto il suo maestà il suo sbotto il suo sbotto il suo sbotto mi stringerà il braccio becca di testa che stratascio e adesso vai a comprare i giornali il suo sbotto per il suo sbotto che ti sta deprendendo il primo piano mi ha messo il tratto col god il suo sbotto sto consumando l'energia sull'estrale si deve riprendere il suo sbotto il vostro sbotto questa volta combatterà l'energia sull'està fatti sotto ma tu sei non c'è il nostro cameraman ridacci il nostro cameraman grande su scolpisci non ritami la telecamera ritami la telecamera manda via questo coso che non capisco che cos'è buio sparisci coso cameraman ci sei? sono tornato sus finiamo l'incontro il vostro sbotto farà una mossa incredibile di questo sbotto uno due oh ma no no ancora tutto si scrive 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 è saluto bene si scrive il vostro sbotto prendi questo è finita questa volta uno due c'è no oh oh omega liberami omega liberami buon lavoro omega adesso elimineremo questi bastardi non puoi entrare sui inutili cagli 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 ma puoi entrare sui inutili cagli hai provato a dire che la chai sono rifiuti sono rifiuti è inutili trucio che la frema non è forzamento grande mano i 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 ma non vanno vanno in giro ma forza dentro adesso te lo c'ho riduto mi è finita cosa? ma ti ho detto che la crai hai finito la venita è più forte che mai vai oh mio mio perché scomodermi cosa? oh questa volta abbiamo mi trovato anche grazie a mano altri nostri compagni del Godovac oh cofino bastardo eheh io ho ancora il mio lieve anche se o meglio occupato alfa ci metterà poco a arrivare eccolo ci metterà poco a arrivare cosa? che cosa succede ad alfa? non riesce a stare in piedi non l'hai capito cosa avete fatto? maledetti non hai notato che tu hai se capisci e non pure che notire fatto da un cuore proibito non funzionano più da un palco non hai notato che se non ho preso un corpo di energia sarebbe proprio una sfida ma non ci hai capito uno 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 non ci faccio vedere ho trovato quella cazzo una di rapaca che porca stia eheh eheh forse non so ma ancora ma funzionano forse eheh eh La sfida ti ha colpito in merda! Ehi, questa cosa io non faccio più! Però io non sto risolto in gruppo! E posso far fare la forza a me! Adesso tutti insieme! Ma non mi vieno Chloe! E non mi ammelo! Brucio potere! E te! Brucio! Vai! Spera! Adesso ragazzi! È il forse momento per amare! Tutto questo pubblico! È il forse momento! Non ho avuto qualcosa! Questi guardi sono pieni di energia! Mi stanno ripensando! Sussi! Sai cosa vuol dire questo? È il momento di una... Mossa di combinazioni! Sussi! Questo succede a chi ci mette tra me! Sussi! Sussi! Batta! Venga su questa tag! Adesso la pagherete i maledetti! Adesso ti farò vedere cosa si prova a subire la mossa che mi hai fatto prima! Mastardo! Oh! E adesso per te è finita! Scheletro Punch! Oh! E non mi avete forza ragazzi! E adesso Sussi! Mossa di coppia! Pronto Sussi! Eccoci! Tanto Sussi! Tanto Sussi! Vai Sussi! E vengo io! Infrazione Sussi! Vum! Giorini! Sussi! 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 Riposo un attimo! E adesso è subottompa! Uno! Due! Tre! su me sta bene e mi sono fatto male a un dente però stai tranquillo che il cameraman ci aiuterà a curare il vostro schetto incredibile con un bel po' di bianchetto e il cameraman hai il bianchetto? dovrei avercelo e comunque festeggiamo il vostro Godo Champion e il suss è stato incredibile però mi dispiace che ha subito i danni il suss è stato incredibile siamo i tag team più forti del mondo grazie amici tanto si fa strano dire amici della club io direi mano torna a proteggere loro quindi siamo alleaggi per quanto assurdo sia il Godo Versa non sarebbe probabilmente mai successo ma abbiamo un amico comune quindi proponiamo di fare un'alleanza con una stretta di mano la club promette chi d'aiutarti è il nostro possibilità perché noi che siamo l'unica completa suggeriamo loro una maestretta di mano su me sta stringa la mano a truciolo subito bene adesso 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 regazzo recuperato quel bastardo prima non c'è più come puro un secchio fare quello Alessandro, cosa hai in mente? Dobbiamo aiutarli, su, su, e chi si c'è là sotto il secchio? Su, ma stanno attenti, che sei... Cosa? Su, scherzo! Ma che cazzo? Scappa se senza il mio Gesù, mi sta lì, è messo peggio di me, proteggerlo, su! Su, scherzo! Ma che cazzo vuole? Ma è un Muppet? Su, scherzo! Su me sta? Ma qui c'hai tu con il cameraman di quel... Fagli capire le conseguenze! Animal Junior! Che cazzo è? Una spia! Ottimo lavoro Animal! Hai preso la macchina? Ti rivedremo presto e la prossima volta! Sarà la fine, è vero mio cameraman animal? Scherzo! Next time! Siamo stati disattenti, ecco cos'era quella presenza misteriosa, ma in qualche modo celava la sua energia! Su, mi sta per favore si riprenda! Ho subito colpi gravi! Su, mi sta per favore si riprenda, non scherziamo! Per far riprendere ci vorrebbe un miracolo! Eh, 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 eh.... Qualcuno ha detto un miracolo! Eh, 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 eh... E voi trebbe fare attenzione! Oh, oh, oh... Votro papà è tornato! Oh, 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 oh... è la prima volta che incontriamo l'aiutate il suo mestolo vi prego oh 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 voi ci avete salvato e doneremo un po' del nostro potere natalizio per far riprendere Asso Asso come va? il nostro papo vuole essere vincita oh 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 mi ha detto lo vetti i biaconi oh 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 ho ho sempre il buon cuore Asso Forza Magia Unita del Natale Ssssssss Susss sto un po' meglio Babbo dammi la mano oh 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 grazie ci avete salvato e eravamo intrappolati in quei orribili creature sono stati creando un ruotone proibito vero? strano cosa? siamo trucio però fa bene uguale si eravamo usati come carburante però li avete sconfetti e siamo liberi quindi adesso finalmente Pimpopac come va? Pimpopac come va? Scusa, vedo che sta meglio, sono felice, e direi di andare a casa, se non sono stanco. Scusa, effettivamente anche il vostro schede è stanco, è tutto rovinato. Ma mi rende un mese quel mappezzo di merda, maledetto mappezzo di merda, ma è fattissimo, giusto? Scusa, lasciamo perdere, accontentiamoci di questa vittoria, la battaglia è finita ma la guerra ancora no. Allora, andate che salve se siete rubati, bene, direi di formare un'alleanza tra noi, tra il nostro gruppo natalizio, questo Crai e voi, cerchiamo questo con un patto. E adesso il vostro papo e la Befana Tatiana prenderanno amici natalizi e andremo via. Dove andrete il papo? E' estate, cazzo, torneremo con l'inverno, il feste dell'atalizio, riporteranno a noi un po' di inizio all'atalizio, perché non abbiamo più inizio, vi voglio dire. Scusa, vedi che avevo ragione su un babbo, insomma, però siamo tutti qui riuniti, mancavano solo Fabri, Guglielmo e Benito che sicuramente concorderanno con noi, vero, mano? Oh, oh, che simpatico, ma... Alessandro e Bucco, come vedi siamo più forti che mai, perché la prossima volta... Andiamo ragazzi, ah giusto, ho un regalo per voi. Speriamo che non c'è una pigna stavolta. Oh, no, tranquillo, il regalo è la Santa Arena. Oh, 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 quindi la potrete ricamare come volete. La Godo Arena. Oh, 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 perfetto. Compagli, andiamo. Però dovete ripostare un'altra storia, stavolta. Suss, le dobbiamo lavorare, eh. E che pagli, sono stanco. Vi aiuteremo in contesto a abitarci. Noi andremo in giro a capire dov'è il rettì, perché il rettì è stata rapita a quanto pare da quel bruco. Non promette nulla di buono, non vi daremo aggiornati. Noi andiamo. Ci aspetto a un lungo viaggio per arrivare in Groenlandia, vero Befana? Andiamo ragazzi, ci rivedremo a Natale e questa volta forse mi porterò un regalo. Beh, che dire, taglio incredibile e ci vediamo nello stage. E allora, com'è? Com'è rivedere le cinture del vostro Skikvessus? Sono distruggito, non riesco neanche a parlare. I veri campioni. Tutto bene, tu ti sei ripreso dalle batoste che hai preso? Sono successe delle cose incredibili, però dobbiamo fare un applauso a Suss. Applaudi, applaudi. Cameraman, applaudi. Tutto un applauso per Suss incredibile. Non sono abituato. È stato stranissimo diventare quel coso. Però mi è piaciuto avere le mani. Adesso non ce l'ho più, le mani. Mannaggia. Hai visto? Cioè, Suss è diventato un coso incredibile. Tag team incredibile. Però Suss. Sono messo a questo il minimo. Lei mi protegge sempre. E per una volta il vostro giusto ha fatto l'eroe della situazione. E Alessandro Il Bruco come ci si sente ad essere colpiti? Succhia. Però è scappato di nuovo. Sono stato a paura. Non devi avere paura, Suss. Adesso ci sono degli alleati. Perché è tornato Trucio, è tornata Mastro, è tornato tutti quanti. Più dei soggettoni strani. Abbiamo degli alleati in clip, Suss. Stai tranquillo. Nessuno ci fermerà a continuare le nostre avventure in questo universo come dei veri campioni. Tutti insieme. E Alessandro Il Bruco vedi di dire le tue informazioni, vero Suss? Sommista, penso che non ce ne dirà mai quelle informazioni. Quel maledetto Bruco. E poi è arrivato quel coso orribile. Ma chi sei? Io so chi è, Suss. Quello è un Muppets. Ma allora esistono quei cosi schifosi? Tu, coso rosa, sto parlando conti. Il vostro scheletto ti sta guardando. Hai deciso di passare dalla parte di Alessandro. Stai molto attento. Perché qui hai due campioni incredibili. Hai un gruppo coeso. E dei cameraman incredibili. Quindi tu hai fatto la scelta sbagliata. Succhia, vero Suss. E Sommista, non so se conviene già farci dei nuovi nemici con cose appena arrivate. Tu, Muppets, come ti chiami? Eeeh, che parla. Off dai coglioni. E se hai coraggio, fatti sotto che il vostro scheletto ti spaca quel tuo grasso culo penoso. Quindi off dai coglioni tu. Muppets cattivo, vero Suss. Eeeh, perfetto. Ci siamo fatti già un nuovo nemico. Cavolo. Quindi sparite e se volete ancora farvi prendere a calci da tutti noi. Queste sono le cinture. I vostro scheletto e Suss sono carichi, vero Suss. Sommista sta facendo un bollettino di guerra. Io non voglio più combattere. E in realtà tranquilli Suss. Avete visto quanto è forte Suss che fa le cose incredibili. Quindi taglio incredibile. E ci vediamo prossimamente. Sommente con il nuovo video che apriano. Il nuovo arco narrativo incredibile. E sicuramente non succederà niente di incredibile. Perché adesso tutti i nemici spariranno dalla potenza di vostro Suss e scheletto. Suss. E circa. E quindi vi ringraziamo di aver visto Godomenia incredibile. Taglio incredibile. E ci vediamo prossimamente. Ehehe. Mi appagherete bastanti. Mi appagherete. E la Beast ha già aiutato il vostro Alessandro. Vedrete. Ci rivedremo presto. E questa volta il vostro Alessandro il Bruco vi distruggerà. Perché nessuno vince sul vostro Alessandro il Bruco. hehehehe 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 hehehehe